Noi la chiamiamo Terra. Lui la chiama... Ecco Porn. Sono il sergente Keroro, signor C. E vuole conquistarla. Attacco! Raggio disintegratore! Kerro, Kerro, Kerro! Quando se ne ricorda... Il lavoro è lavoro e ho una missione da compiere. Brutto ranocchio. Keroro. Da lunedì 7 gennaio tutti i giorni alle 17.05. Vai! Su Frisbee. Non sono un brutto ranocchio.